perchè devi brillare come la stella non ho fatto torre il brushing così sul cellulare e mi raccomando bella brava e con dei brividi pazzeschi questo video è stato gentilmente sponsorizzato da Koro su Koro potete trovare tantissime cose buonissime e anche confezioni molto grandi e molto convenienti ad esempio di semi e frutta secca o frutta essiccata snack, tantissime cose farine di tutti i tipi frutta aliofilizzata potete spizzarrirvi io faccio l'ordine ogni mese su Koro e faccio veramente fatica a scegliere fra le tante opzioni che ci sono e vi ricordo il mio codice sconto CHIARAGOLOSA del 5% sempre 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 valido e segnatevelo così quando farete l'ordine e ordinerete il vostro stacchettone di nozzone lo userete quindi ringrazio Koro per aver sponsorizzato questo video e partiamo ciao 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 grazie di essere qui 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 con me oggi 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 voglio fare un video un pochino particolare e cioè una reaction ai video ASMR su TikTok spero possa essere rilassante io ne ho selezionati alcuni e molti secondo me li taglierò perchè prima cosa ho notato che in tantissimi usano l'hashtag SMR anche quando non c'entra assolutamente niente o anche quando mangiano del cibo completamente a caso o quando fanno schiazzano cose in modo soddisfacente ma non è assolutamente rilassante quindi c'è un po' di tutto in mezzo adesso ne andremo un attimino anche a parlare in ogni caso per chi non lo sapesse ho messo su anche TikTok si perchè con il mio lavoro non potevo evitare e mi trovate come Chiara ASMR real ma partiamo subito ho un po' cercato selezionato guardato e volevo partire dagli italiani e spero di riuscire a sincronizzare non lo so speriamo comunque tipo parliamo da Annina ciao bellini e ciao belline mie ho appena finito di registrare un video fast and aggressive fast and aggressive per il mio canale youtube 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 e per chi non sapesse che cos'è un fast and aggressive è proprio questo fare dei trigger parlare molto 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 velocemente ecco questo è il tipo di video che secondo me ha senso TikTok visto che i contenuti sono veloci ci sta a fare un contenuto veloce aggressivo 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 verso la fotocamera ovviamente cercare di far rilassare e allo stesso modo anche con questa tecnica ho appena finito proprio di fare un role play make up role play make up Eccolazione bene 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 ecco ok allora se c'è una cosa che effettivamente mi dà molti più brividi è il formato verticale infatti non so voi ma a volte mi vengono molti più brividi guardando un video smr magari su instagram in verticale perchè c'è lo schermo pieno infatti vorrei in realtà provare a fare un video su youtube in verticale per provare a vedere se vi vengono più brividi non lo so di fatto vi farò vedere degli esempi comunque lei mi piace tanto anche su youtube guardiamo Malou ciao Violetta allora questo qua è un pentolino magico dobbiamo scegliere uno di questi piccoli oggetti magici scegliamo il numero 5 ok uno due tre quattro e cinque questo qui è l'oggetto numero 5 praticamente ops si toglie i vestitini e poi andiamo a vedere il suo coricino che cosa c'è dentro wow guarda è un colore arancione profumatissimo ecco un'altra cosa lei è molto brava tra l'altro mi piace tantissimo mi piace molto il suo accento mi piace tanto quando c'è un accento un po' straniero che parla l'italiano mi fa venire un sacco di brividi e un'altra cosa che ho notato su cioè su tiktok è che certi video non è una cosa personale verso una persona vasta in generale a volte non hanno un senso non hanno un argomento sono un po' così prendo un oggetto a casa e lo faccio e io avendo tante esperienze qui su youtube con formati molto diversi farei molta fatica a fare questa cosa cioè quasi non la comprendo mi piace mi piaceva questo video però vabbè parlerò pian piano di questa cosa e andiamo a vedere un altro ecco perchè poi in mezzo ci trovano un sacco di video satisfying che in realtà magari fanno un chiostro incredibile e c'è questa confusione fra smr soddisfacente cibo questa un po' sovrapposizione ma non si capisce dove sta cioè io capisco dov'è il confine o almeno conosco la linea ma certe persone pensano che smr sia io che mi strafogo di cibo facendo suoni e sceni ok ok smr ale adesso ti metto le cuffie e ti metto una bella playlist rilassante cosa dici? allora ecco qua una e due e intanto ti faccio di visual clicker ok? aspetta che posso farti una bella ok ok mia sorella dorme le voglio fare uno skirt non so non è vero è ancora sveglia ah se lo faccio è ancora sveglia no non riesce ok molto carini in realtà mi piace ripeto molto in un formato verticale sicuramente ecco sono video molto più semplici anche se ne hanno alcuni di altissima qualità provo vabbè questo normale cioè in realtà questi video sono quelli che per me abbiano senso quindi i video smr però un po' casuali ma neanche con il microfono proprio così un po' devo mostrarvi una cosa ve la mostro in smr ecco ecco è il mio formato preferito su tiktok ok proviamo questa mjacobs che già sto vedendo un film vuoi che io ti trucchi? ok ma perché? che devi fare? devi andare ad un appuntamento va bene non lo dirò a mamma e papà tranquilla andiamo con il blush perfetto e adesso il lip gloss è trasparenza non esageriamo perché sei ancora piccola sugli occhi perfetto e adesso ti metto l'illuminante perché devi brillare come la stella non ho quanto toro i bracci con così sull'illare e mi raccomando bella brava e non dei privi di pozzetti ok canino carruzzo vedete anche basta qualità a me piacciono guardiamo guardiamo cosa posso avere ah questi li ho visti questi che vi faccio vedere adesso secondo me sono un equilibrio tra satisfying e smr perché a me cioè i suoni sono belli ma non mi rilassa mi da più soddisfazione se non lo guarderei per dormire ma per rilassarmi è più un che bello guardiamo è bello e va a vedere però è marrone o più vediamo se ne va un altro giallo forse questo l'ho già visto si l'ho già visto allora vediamo una e lascia che 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 Mi piaceva però che è andato un po' un tomazzo per me, però cavolo che impegno. Spazzoliamo i boccoli assieme. Un po' troppo... Indifferente. Ancora malu, vediamo Mary Jane. Quattro palle in 15 secondi, pronti via. Ok. No, perché le lanci? Caruccio. Io non sono fan di queste cose troppo troppo veloci, ma più che altro non è tanto il veloce, è il buttare. Fa casino, non lo so. Sono veramente... il mio problema è che sono nata con Youtube e sono troppo attaccata al formato di Youtube, questa è la verità. La verità è la verità. Ha questa carrotta. E' la verità. Onesta. Io adoro... Mi sto parlando un po' di più di... Io adoro quando... E solo certe persone sono capaci, tipo le persone stanno facendo qualcosa tipo truccarsi, e fanno questo top licking delicato. Mi sciolgo, ve lo giuro. Molto carino. Ehm... Vediamo, vediamo, vediamo... Ehm... Perché poi io sto provando a selezionarvi quelli un pochino... Guardiamo, Arianna. Che la faccio sempre nei dito. Cippo americano ASMR parte 5. Non so mai come tenere questo microfono. Oggi a grande richiesta. A me piace tantissimo il microfono del cellulare. Ve odio. Assaggiamo le Big Red. Ho paura. Vi evito i suoni del masticamento. Cioè, secondo me questo può essere... Cipostare. Cioè, non dico che i cibo ASMR non possono essere sovrapposti. Anche perché anche io ho fatto dei video così. Però... Dico che... Cioè, ci devono essere un po' di suoni e comunque... Cioè... Cioè, devi capire se... Guardi quel video, secondo me... E lo trovi rilassante. Lo trovi solo... Soddisfacente. Cioè, se ti fa... Quando lo trovi soddisfacente... Non ti rilassa... Non ti rilassa... Ti... Ti agito in un qualche modo, no? Ti risvegli invece... Rilassante, di calma. Questi hanno un sacco di suoni molto meno delicati. Secondo me ci sta. Carino come formato. Amerigine. Ok. Così è carino. Però poi io questo l'ho visto. A un certo punto cominciavo a parlare a caso. Ve lo stoppo perché... A un certo punto ho messo questo ASMR e poi ho cominciato a parlare completamente a caso, ad alta voce. Mi spavento. E qui, springa. Una delle mie brevi, brevi, brevi in assoluto. Questo mascara sulle tue bellissima ciglia. Ma tu hai delle ciglia già lunghissime però. Con questo andiamo a valorizzare meglio. Chiudi, 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 chiudi. Mi troverò a... No, dovrei stare vicino alla fotocamera dell'iPhone. Gli attenti sono grossi. Che bello! Aspetto l'altro po'. E la parte sotto. Bello. Bellissimi veramente questi video. Ehm... Adesso avrò un po' cambio categoria. Anzi, cambio categoria. Sicuramente non ho beccato minimamente. Ah. Vi faccio sentire Roimel. Che per me è... A volte lo seguo. Ho proprio un figlio. Ok. Non ho un'etichetta abbia. Vabbè, in ogni caso. Per me anche sulla piattaforma è bella così. Molto bravo. Ok. Ciao ragazzi. Eccolo, 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 eccolo. 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 Molto molto bravo. Eccolo. Eccolo. Eccolo, eccolo. Vabbè, era molto corto. Eccolo. Ciao ragazzi. no ragazzi scusate ma davvero dei figli ma tra l'altro cioè sembrano nemmeno di 2-3 anni vabbè domanda, domanda mia beh contenta per lui o li dimostra bene o ha fatto figli giovane e buon per lui insomma in ogni caso non voglio farmi troppo ripare degli altri però mi sono rimbrando un po' sotto e sciolta così ok andiamo avanti, questo l'ho guardato e l'ho trovato molto carino e veramente semplice come a me queste cose fanno venire un sacco di prevedini quindi vi faccio sentire questo è questo microfono adoro oh no non so che cosa sia mi piace così tanto no adoro questi close up questo è questo facciamo tutto a sotto ecco in sotto è quello mi piace, mi piace, mi piace guardiamo questo, ho provato a fare un video smr mentre mangio un po' anche posso guardarlo che cosi ok un po' anche ok un po' anche 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 non so, ti dimentiché qualcosa ne pensate? per me un smr c'è poi ripeto bello questo, aspettate ripeto c'è è tutto a livello, ma poi io non so, secondo il mio modestissimo parere ecco adoro adoro questo trigger, l'ho fatto nel mio primo video smr dico 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 no, questa inquadratura dico 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 quanto mi prenda? mi sciolgo ad ora ok direi che possiamo andare avanti ecco una cosa che secondo me, ma che ho fatto anch'io, ma che secondo me non ha troppo senso non so e infatti nei video salvati non ha troppo senso per me fare video in orizzontale su tiktok che ho in verticale e ne ho fatto un anch'io, quindi proprio mi sono risolvato che non ha troppo senso ok spero di fall asleep in 60 secondi let's go l'improvviso è bellissima buce magnissima go mi sento è bello n molto ma è una qualità però devo dire su questa piattaforma prefirisco le cose di più bassa qualità e magari senza microfoni professionali Sì, è molto brava. Guardiamo questo... Scalto. Sì, ti senti burning... ... edginess in tuo scalp? Sì, qualità sono? Sì, ti senti un piccolo... ...different seczioni... ...in tuo hair... Ok... Allora... ...I'm just going to go ahead and part the hair... ...I just want to locate exactly where... Ecco, ad esempio, ho visto questa ragazza. Lei fa video di altissima qualità. E ha... ...visualizzazioni pazzesche, ma secondo me... ...ma secondo me... Cioè, sarebbe molto più piacevole su YouTube. Avrebbe molto più senso, guadagnerebbe anche lei di più. Poi magari li fa su YouTube, e non lo so. Facciamo gli ultimi e voi ditemi... ...mettete mi piace se vorreste una seconda parte... ...se volete anche... ...suggerirmi qualcosa. Guardiamo... Ah, questo! Questo voglio provare a farlo. ...voglio provare un secondo a fare questo trigger. Proviamo. Io... ...devo finire il video qui... ...purtroppo... ...ma... ...anche perché scuola la video reaction... ...un po' diventa troppo lungo, no? ... ...però ditemi davvero se vorreste una seconda parte. Volevo fare questo video a... ...tempo in memore. In ogni caso, secondo me, il conte... ...cioè... ...i contenuti ASMR carini su TikTok... ...sono... ...quelli veloci... ...non lo so... ...brevi... ...ma video... ...troppo, troppo, 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 troppo elaborati. Comunque... ...a me piace a volte guardare i video ASMR su TikTok... ...perché li trovo visualizzati... ...comunque... ...la cosa che più mi piace... ...dei contenuti ASMR su TikTok in generale... ...è il formato verticale. Ecco, quello mi fa venire un botto di brividi. Veramente. Quindi... ...ditemi cosa ne pensate, ditemi... ...non lo so... ...la cosa che più non mi piace... ...è che sia confuso tutto ASMR con tipo... ...con cose soddisfacenti. D'altra parte, però, sono nati tantissimi canali... ...che poi, magari, sono cresciuti anche su altre piattaforme... ...proprio lì. Quindi, dall'altra parte, mi fa piacere che si dando la possibilità a nuovi canali... ...di avere un'esposizione... ...diversa e di crescere anche... ...più velocemente rispetto a solo YouTube, ad esempio. Quindi... ...ci sta. Non lo so, non la vedo come piattaforma... ...ultima per fare solo contenuti ASMR. Se vuoi farci una carriera, se vuoi che diventi anche... ...una tua piccola fonte di guadagno, trovo che... ...ecco, non sia la piattaforma da usare... ...non sia l'unica piattaforma da usare... ...ma che per almeno YouTube... ...o per la piattaforma Viola... ...tu debba passare. Detto questo, ognuno fa quel cavolo che vuole. Cioè, tu debba passare da lì... ...per arrivare magari ad altre piattaforme... ...che ti permettono anche di guadagnare... ...dei tuoi contenuti molto di più. Ecco, ci vuole più impegno però... ...una volta che ti metti lì col microfono... ...a fare... ...cosa ti costa fare un video YouTube? In ogni caso... ...questrani i miei pensieri... ...ditemi cosa ne pensate voi. �... ...e io penso proprio... ...penso proprio. penso proprio... ...penso proprio... propria, 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 propria è giunta l'ora di abbassar le luci e augurarvi augurarci augurare a te a te a te una buona buona notte sonidoro good night sweet dreams buenas notas dolce sogni buon nuit vede joyous good night le canocht buonanotte dei miei piccoli pasticcini pieni di inoculato croccante che le spero ciao 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 ciao